Pronto Nico, complimenti guarda, complimenti, guarda sto giro proprio mi sei piaciuto, no qui per la legge sulla rigenerazione urbana, e questa è una cosa importante, sì sì sì, no no mi piace proprio la decisione, manteniamo così un impegno che abbiamo assunto sin dall'inizio del mandato, una riforma strategica per la costruzione di un modello di sviluppo in cui finalmente si coniughino gli edilizia e il rispetto per il paesaggio, sostenibilità, sviluppo, innovazione e tutela della bellezza, no no ce le voleva Nico, Nico ce le voleva guarda, no no no, mamma, sì ma che scherzi, non se ne poteva più guarda, specialmente qua affrascati, guarda una cosa tutte crue, tutte cose, basta no, e basta, e certo, sì sì ma no devi mettere l'ommini giusti al posto giusto Nico, parliamo se chiari, e lo so che è difficile trovare poi a fine, capirà, ma che scherzi Nico, guarda, è un impegno, lo so, lo so, e beh ma se poi non c'è qualche persona per te c'è quel gatto pardo, ma che ti devo dire, ah sì sì è stato un successo, no, stamattina devi vedere in quanti, complimenti, bravo, buon lavoro, eeeh, gatto pardo 2, le loggi si sono sprecati proprio, vai avanti così, vai avanti così che vai bene Nico, vai proprio bene, senti ma a proposito, ma qua affrascati, il festival dell'unità, ma non lo fate, come c'è stato, ma non ho saputo niente, e vabbè ma tu scusa, no, mannaggia, ma che vettete io a queste cose, ma fate, fate, quando dice, parteciperà anche Salvini, e vedrai che fa ieri pieno, Nico, dammi rete da queste cose so pratico, vabbè, vabbè, manteniamo il paesaggio, mi raccomando, mi raccomando, sti cazzo non li vedi, daglie, daglie Nico, daglie giù,